Molto bella, ero arrivata seconda se non sbaglio e niente, tra l'altro appunto anche abbastanza inaspettato perché non so, la scherma comunque non credevo di ricevere tanti voti da poter arrivare tra le prime tre. E se nello sport si impegna anche a far conoscere discipline diverse dal calcio? Sì è vero, fate un lavoro bellissimo nel senso che appunto date un po' di notarietà degli sport che magari sicuramente sono di parte ma sono belli tanto quanto il calcio se non di più per quanto mi riguarda e comunque sicuramente hanno bisogno di più notarietà, più spazio anche per essere conosciuti ai giovani.